Il Comune di Teramo è il primo capoluogo di provincia in Italia ad aver raggiunto il 71,09% di raccolta differenziata, un record nazionale sancito dal rapporto 2022 di Zero Waste Europe sullo stato dei comuni a zero rifiuti e che ha colto piacevolmente di sorpresa l'amministrazione. Cinque anni di buone pratiche con il porta a porta e le eco-isole hanno portato a questo brillante risultato, come ci spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Teramo Martina Maranella. Tutto questo ci ha portato a un risultato importantissimo in termini proprio di comunità, del raggiungimento di obiettivi in termini di percentuale molto elevati per la raccolta differenziata ma soprattutto nell'individuazione di ulteriori famiglie sul territorio che ci permettono anche di applicare un sistema di equità in termini di tassazioni. Ballano 30 milioni di investimenti. Sicuramente derivano anche da una serie di scelte che l'amministrazione ha deciso di mettere in campo proprio in termini ambientali. Ci sono i 28 milioni del biodigestore e gli ulteriori 2 milioni di euro legati sia alla tariffazione puntuale, quindi a un incremento del numero delle eco-isole oltre che ai mastelli taggati, ma soprattutto alla sistemazione, all'adeguamento del centro di recupero di Carapollo perché ricordiamo che la raccolta differenziata in sé per sé da sola non è sufficiente. Bisogna assolutamente legarlo a un concetto di recupero, quindi di riutilizzo. Ecco perché il polo integrato è di fondamentale importanza in questo discorso. Raggiungere un'ottima percentuale di raccolta differenziata porterà un vantaggio economico per i terramani mappati in 30.000 utenze con la riduzione dei costi della Tari. Tutto questo è stato possibile anche grazie ad una rivoluzione culturale sull'ambiente iniziata dalle scuole elementari con la cura dei luoghi da parte dei bambini. Nominando 200 bambini guardiani della villa, 140 bambini guardiani del parco abbiamo lanciato un messaggio che la bellezza può essere, ci si può arrivare alla bellezza dei luoghi attraverso una buona educazione e buoni comportamenti. Questo poi automaticamente a catena favorisce il comportamento corretto anche dei genitori, delle famiglie e quindi in aumento della differenziata sicuramente è stata condizionata anche da questo. Anche dall'abbandono dei rifiuti nei luoghi importanti della città, prima veniva in maniera esagerata, oggi devo riscontrare che tranne qualche situazione particolare dovuta a qualche situazione del sabato sera ma i luoghi sono curati, non si vedono più rifiuti in giro. Grazie a tutti.